Qua,ающa... Qua,ающa Analizza le probabilità Elabora le possibilità Mi puoi collegare a un macchinario che Posso ionizzarmi Ossidarmi Ed perfino iprodizzarmi Guarda qualsiasi effetti ha su di me Uno sguardo di qua sono qui uno sguardo di là Fa così, ma qualcosa forse ancora un po' sticolore Come funziona? Vorrei capire adesso Come funziona? Qualcosa su quel processo Come funziona? Ne parliamo con attenzione Come funziona? C'è qualcosa che non so Come funziona? Teorema scientifico Come funziona? Sono sempre più confuso Non so dirvi il metodo che uso Sì!